Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti al canale, io sono Magnus, vi posso assicurare che quando ho visto l'uscita e la presentazione di Alien Blackout la prima cosa che ho pensato è stato, oh cavolo, hanno fatto il sequel di Alien Isolation credo che sia stato Alien Isolation uno dei miei giochi preferiti non solo perché sono un fan della serie di Alien, ma soprattutto perché il gioco è stato memorabile poi dopo, quando poi mi sono accorto che ci hanno detto che Alien Blackout non l'avrebbero fatto per console o per PC ma sarebbe uscito per mobile, mi sono un pochettino girate, sapete benissimo che cosa trovate questo video, questo è il mio tour, su un bel commento, mi piace però ancora non l'ho visto, stiamo nella parte iniziale, non so ancora niente, magari è un gran bel gioco mobile chi può dirlo? Partiamo, il gioco è anche in italiano, pensavo che il voce fosse in inglese e invece in italiano giochiamo! Benissimo, eh? Ok Ok Oh, si vede o non si vede? Ok, non so se ci conviene magari aumentare un po' di una città, però vabbè forse è voluta questa prima parte Due passeggeri Ancora non stiamo giocando, tranquilli Ok, impronta? Aspettate Sì, dovevo metterci il dito sopra Allora, sala di controllo, entrata, corridoio, sezione ingegneria, corridoio Perfetto, quindi facciamo sala di controllo, ah, sono tutta una serie di telecamere Entrata, ops C'è qualcuno Corridoio Sì, finalmente Ciao, questo è Amanda Ripley, potete sentiremi? Sono direttore di exeggete, ora Goyetani Non è così lungo, siamo tutti in danger Basta Aia Ehm, sai che dobbiamo cambiare il telecamera? Ok Ah, vedete, interagiamo noi, ho chiuso la porta Ok Ok, non credi che è come se fosse tipo una sorta di amore manageriale Non c'erano le trasmissioni, questo posto è una traccia di morte Non c'erano le trasmissioni, la trasmissione principale stazione ha giocato per riparare Ok Ah, ecco, vedi, quindi dobbiamo aprire la porta Perfetto, quindi dobbiamo aprire la porta In varie zone Ok, questo ti penso che sia la parte del circuito Sì, così penso che avergliela aperta E adesso si stanno muovendo Sì, è tipo un manageriale Quindi in pratica dobbiamo farli Andare Andare Ok 8 minuti Bravi Andate Andate ragazzini e correte E adesso sembra facile Però secondo me Perché ho letto che c'è la possibilità di fare anche diversi finali Ok Voglio capire se però Ecco Sto disattivando il blocco Bravi ragazzi, disattivate I rialti sono tutti morti Non diciamo parolacce Ok Ma possiamo fare vedere Nasconditi e sbrigati Perfetto Oh, cavolo Sì, ma noi possiamo vedere Cioè, tipo, li stiamo guidando Nel frattempo stanno avanzando Però Vorrei capire Sì Ah, questo è il cuore Ok Quindi abbiamo anche il cuore del battito Se le stiamo praticamente indirizzando bene Ah, ecco, vedi Allora Questa qua Nella stazione Nella sezione dell'ingegneria Ci sta Perfetto Corridoio non c'è nessuno Qua non c'è Ok Corridoio 2 non c'è nessuno Quindi sembra tutto tranquillo ragazzi E Forse ce la potete fare Perfetto Vi vedo qua Bravo Ok Quindi i decoratori li stanno installando Serviamo le sue credenziali Serviamo le sue credenziali C'è una porta di fianco Che gli altri dovrebbero ritornare al shuttle Perfetto Ah, quindi ci dobbiamo dividere Ok Credo di averli sentiti Porca miseria Penso Aspetta Adesso cerchiamoli Non ho capito che Ops Ops Ragazzi Credo che stia Ecco Questo l'abbiamo chiusa Fantastico Però penso che ci sia qualcuno Tutto bene Ok Adesso non c'è più C'è una confuzione tremenda Mi serve qualche indicazione Traccia un percorso per side Ok Va quindi devo ritornare molto No, no Riprendi la partita Ecco, vedi da qui No, da qui ho aperto la porta però Ah, la telecamera è tutta al contrario Ok, da qua Allora Da qua Vediamo se riusciamo a farle andare Sì Ah, quindi si può tracciare anche il percorso E quindi state zitte e non parlate Perfetto Quindi dobbiamo far arrivare là forse Aspetta, vediamo un po' Vediamo un po' se riesco Può farlo arrivare da qua Sì ragazzi Però Datevi una mossa Più che altro è per capire Se Il riepatoio di movimento Ok Aia Allora ragazzi Il riepatoio di movimento Credo che ci sia qualcuno qua Quindi secondo me Ecco Nasconditi, nasconditi Oh che figata Quindi si può No State delirando Aspetta, aspetta Vediamo un po' se riesco Perché? Allora Ma siete morti o altro? Perché non mi vedo più Questo? E si sono nascosti I can only track it And I don't know if I'm your best bet But right now I'm the only bet you have So keep it together E ragazzi Non avete alternativi Ok Vediamo se ce la faccio a far andare Dai Non era quello il mosso Forza Eh dai Sbrigatevi Andiamoci una mossa Forza Perché dai Energia disponibile 2 su 5 Quindi Se vi sbrigate Vedo che non c'è ancora nessuno In questa zona qui Non abbiamo rilevazioni Quindi Dovremmo stare tranquilli No Aspetta un po' Dai Ah vedi Perché si abbassa Il rilevatore Non consumo energia Perfetto Dai che ce la fate Dai che state perdendo 3 ore Per fare 60 passi Si è praticamente Minergeriale Da qui possiamo accedere Ok Oh Li abbiamo portati in salvo Quanti? 2? No? No? Ci si Ah anche di qua Scusa mi ho sbagliato Aspetta forse anche di qua No Di qua Di qua Vi state muovendo da soli Io ve lo dico Allora c'ho Tohcroft e Yutami Che stanno in buoni condizioni Vediamo se stanno facendo loro dovere Allora porta 1 Volevo capire Come cavo può fare Per accedere alle telecamere? Aspetta Elevatore Elevatore Non è questo Aspetta Aspetta un po' Forse da qui No Da qui No neanche da qui Perché questa è la mia sala di computer Penso Aspetta un po' Io non so se Da qui Questa è la porta 1 Ok così dovrebbe essere aperta Vai ragazzi Scusatemi Ma ero impegnato a cercare di capire Le telecamere I dispositivi stanno qua Quindi penso che siete in salvo adesso No? Un nuovo punto Che se ne frega che da tanto Ah ci sta spiegando Diamoci da fare Perché fino a ora che abbiamo fatto Livello completato Ok Tuo equipaggiamento Al centro di comando Scoprirete dove sono stati Messi I depuratori Ok Ah quindi è una sorta Tipo fatto a livello Carino Detta che vedere Vabbè con quell'altro Vabbè ma si sapeva che Essendo un gioco Su mobile Dovrebbe essere Puntinivo Possiamo utilizzare anche Le telecamere Ok Che ne frega del nome Ok Io non ho da una parte Vabbè Ok Questo è abbastanza Aiutami Allora Sono le varie zone Che dobbiamo raggiungere Secondo me Quindi io direi Di Mandare Allora Vediamo se Riesciamo a rilevare Qualche cosa No Da questo lo mandiamo qua Aspetta Perché Non ho capito una cosa Allora Iniziamo Da qui possiamo entrare Perfetto Vediamo se Io non direi di farli andare Tutti quanti insieme Perché stanno qua Eccoli qua Avete visto Adesso ho attivato Anche le telecamere Ho capito Siete un po' lenti E però Sembra che non ci sia nessuno Allora Quindi andate tranquilli Si sta dall'altra parte Quindi state tranquilli Non ci dovrebbe essere nessuno Però Sbrigatevi Ecco Datevi una mossa Non lo vedo più eh Non so se sta venendo Verso di voi Ci siete? Eccoli qua Eccoli qua Ragazzi Mi raccomando eh Ok Sarete tutti quanti qua? Sì Ma adesso siete lentini Però eh E datevi una mossa Ho chiarito le telecamere E lo so Ma qua non c'è nessuno Qua nemmeno Qua nemmeno Che cosa è successo? Ops 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 Ragazzi Credo che abbiamo visite Mi sa che dovete scappare Sì Ehm Nasconditi E No 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 Ehm Fermati Ehm No sbrigati Porca misera Li vedo in difficoltà eh Sono nascosti però penso E fosse Siamo riusciti a scamparla? Ok Vediamo se ci stanno Vediamo se compaiono Non ci stanno Eccoli ecccoli Tutti e due Siete salvi? Però si è fatto cacca sotto Perché cammina Come se si fosse spaventato Ok Quindi questo lo vediamo Quindi questo lo vediamo Pare che non ci sia nessuno eh Ma se è solo tu vivo L'altro sono morti Aspettate eh Allora se Utanio è morto Ehm C'è soltanto Il nostro Tunes Ok E' vicino Essere uguale Ok ragazzi Anche questa parte termina qui Scrivetelo sotto nei commenti Se voi lo conoscevate Se sapete che sarebbe uscito Se l'avete scaricata Se ci state giocando Naturalmente come passatevi il video Come se mette un po' Autore dei sottotitoli Ci vediamo in prossimo video Bye Grazie a tutti